Ben ritrovati cari telespettatori all'appuntamento con le previsioni medio di tempo al tempo. Diamo subito insieme in un sguardo alla situazione generale prevista per lunedì 20 febbraio. Nel letto di correnti sud occidentali risale ora una perturbazione che determina un peggioramento del tempo a partire dalle ioniche. Ed ora vediamo più nel dettaglio qual è la situazione in Puglia. Sulla nostra regione piogge al mattino sul Salento in intensificazione nel corso del pomeriggio quando potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale in estensione anche sulla media Puglia miglioramenti in serata. E spazio adesso alle previsioni per la Basilicata ed il Molise. Piogge in Basilicata più deboli sul Materano e alternate a schiarite nel Potentino. Nebbie al mattino in Molise specie sulla zona di Campobasso. Piogge alternate a schiarite nel resto della regione. Infine vediamo la situazione di temperature, venti e mari. Temperature in rialzo nelle minime, stabili o in lieve calo nei massimi. Venti in rinforzo da sud-est con locali rinforzi. Mari generalmente mossi fino a molto mosso il canale d'Otrato. E per ora è tutto con le nostre previsioni. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento. Vi lascio in compagnia dei programmi di Antena Sud. Arrivederci.